Dopo il successo riscontrato con Energy Certificato, Cadline Software si rivolge ora a tutti i certificatori professionisti che operano in Lombardia. Energy Cened è la soluzione reale che permette di sfruttare a pieno tutta l'efficienza di Energy Certificato, per poi esportare direttamente in Cened per le fasi finali del lavoro. Arcline Energy Certificato semplifica notevolmente il lavoro del progettista grazie all'innovativo Input Grafico Architettonico, il nuovo sistema di input di dati geometrici che ci evita inutili perdite di tempo legate all'inserimento manuale delle misure. Arcline Energy Certificato riceve automaticamente gli ambienti del nostro progetto ed è in grado di fornirci la parzializzazione delle superfici in base agli ambienti che essi dividono. Progetto Architettonico e Progetto Energetico sono completamente sincronizzati grazie alla tecnologia Gear, il BIM di Cadline Software e quindi ogni variazione geometrica nel progetto comporta l'automatica sincronizzazione di tutto il lavoro. Le proprietà fisiche vengono associate agli elementi in modo grafico, con tutti gli strumenti di selezione e filtro che rendono snella l'interfaccia di lavoro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione!